Pronto Stella? Sei in letto? Sotto il baldacchino di qualche Luigi o col materasso in terra? Allora senti stacci bella tipo supino comoda perché ti faccio sentire una cosetta. Aspetta che piglio il gramofono. Senti non sai cos'è di mitico questo aggeggio? L'ha portato mammi da mosca e fai conto un fonografo ma sai di quelli proprio fono 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 non so con la tromba per dirti. Brutto anche sai un coloraccio che ti può fare un po' paura. Sai verde ma verde un po' non so come avere il ramarro lì sul tavolo. Però invece di metter su i dischi glielo dici e lui poverone se li mette da solo. Gli metti magari lo scaffale un po' vicino e via che va. Ecco. No sai è una stupidaggine però bisogna pensarci no? Ti dico il Pierone ha preso una paura perché naturalmente tonto com'è lui credeva che il disco l'avessi messo su io senza muovere le mani. Terrorizzato. Ho dovuto spiegargli un'ora che era il gramofono che se ne metteva da solo allora finalmente si è calmato. Senti Stellin sta lì che ti faccia sentire una cantante americana ma tipo 35 che è di un dentro da matti. Sai il genere gatta con le girls il cilindro il collo duro. Sai di un Broadway ma di un Broadway fin stupido. Senti un po'. Senti un po' 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 Senti un po'